Ciao a tutti ragazzi, sono Negromante e benvenuti in questo nuovo video Allora, oggi è sabato e volevo parlarvi di domani Che è domenica Ah, genio Domani ci sarà un evento Il Twitch, no, gli stream, no Twitch e Youtube event tipo Non mi ricordo come si chiama bene, raga Non l'ho neanche capito neanche io in realtà, però E domani comincia alle 4 E a Venezia, Cavallino, Piazza PDP E praticamente saremo io Poi so che c'è Crazy E poi ci saranno vari altri streamer, Youtuber E vedremo un po' di parlare Spero che riescano a procurarci anche qualcosa per giocare E vedremo di fare qualcosa Spero vi ha tanti E niente, registrerò Quindi probabilmente porterò un video sul canale E anche Crazy con la sua specie di GoPro Una specie di GoPro, ha detto Io userò una videocamera digitale che sto usando adesso E non so neanche se mi sto inquadrando Quindi, perfetto E niente, volevo dirvi di questo evento, ragazzi Spero vi è dati in tanti E noi ci vediamo nel prossimo video Bella